Aspetta l'arrivo di Mercier, ancora Urbanski in verticale per Raimondo. Primo aggancio così e così, poi pallone toccato verso Mercier, Anatrello col tacco, Urbanski in palleggio. Urbanski! Non è vero, non è vero! Che gol ha fatto Urbanski! 2-0 ha fatto qualcosa di incredibile Urbanski! Se l'è inventato! Palleggio e poi rovesciata da copertina!